Oggi una signora mi chiedeva come faccio a parlare due ore su una frasetta come quella della linea 18. Ci accorgeremo che non basterebbero. Allora, noi procederemo passo per passo per capire fondamentalmente due cose. Il significato di questo brevissimo testo e secondo, ci interessa capire quale di questi tre testi rispecchia l'originale aramaico detto da Gesù. Quindi il nostro interesse è per certi aspetti critico teologico e per certi altri critico storico. Cerchiamo di fondere insieme questi due interessi primo, per evitare spiritualismi poco seri e secondo, per cercare onestamente di far dire alla parola di Dio quello che per davvero ha voluto dire e non prendere a pretesto la parola di Dio per dire quello che ci piace. Dunque un po' di pulizia mentale ci è necessaria. Come vedete alla linea 18-20 voi trovate tre versioni. Quali di queste tre è quella originale? Allora, la prima cosa da fare è cercare di capire tra la linea 18 e la linea 19 qual è delle due è più autentica perché se notate alla linea 18 avete un plurale Mentre invece la didache ha un singolare Allora, se noi esploriamo un pochettino le lingue semitiche senza andare a far troppi esempi a noi ne basta uno solo quello della linea 23 Naturalmente la linea 23 incomincia a destra Bereshit in principio Barah Creò Elohim Dio Et segno dell'accusativo Ha è l'articolo Shamaim Shamaim in ebraico è un duale non è un singolare E quindi abbiamo non una singolarità di cielo In principio Dio creò i cieli noi il duale in italiano non l'abbiamo i cieli e la terra Mentre invece nel terzo secolo avanti Cristo quando gli ebrei traducono questo testo ebraico in greco mostrano con chiarezza che la mentalità greca acquistata dagli ebrei non ha più la visione plurale del cielo ma ha la visione singolare Alla linea 24 voi trovate Enarche in principio E poi Esenfece Otheos Dio Tonuranon il cielo 1 Notate? Allora cosa dobbiamo dire? Che la linea 19 risente della mentalità greca non della mentalità semitica perché se sentisse se risentisse la mentalità semitica noi avremmo dovuto avere un plurale come plurale è questa espressione del primo capitolo della Genesi al versetto 1 quando si parla della creazione Perché gli ebrei hanno due cieli? Perché erano forse più saggi di noi più saggi di Gagarin il quale su nello spazio dice sono in cielo ma Dio non lo vedo e gli ebrei gli avrebbero risposto bravo furbo di cieli ce ne sono due quello che noi vediamo e quello che è al di sopra Dio cammina su quello che è al di sopra quindi noi abbiamo un nostro soffitto che chiamiamo cielo sopra c'è una gettata di cemento armato e sopra questa gettata di cemento armato che sarebbe il secondo cielo Dio cammina se noi avessimo tempo modo voglia di leggere in ebraico il racconto del diluvio universale il testo dice che Dio ha aperto il cemento armato per far scendere giù il Tehon cioè questo Mabul questo disastro di acqua non è l'acqua umana e lui dice da questo momento in avanti faccio la riparazione al mio pavimento e questo castigo non lo manderò più ecco questa concezione della pluralità dei cieli noi la troviamo in Matteo non nella didache dunque scartiamo subito senza tante storie la didache perché non ci interessa in quanto non ci porta a quello che è il padre nostro originale resta Matteo e Luca naturalmente qui ci sono alcuni piccoli problemi perché Luca solo pater perché Matteo pater prima di rispondere a questa domanda noi dobbiamo chiederci dove sta la singolarità di questa invocazione pater allora se noi prendiamo l'Antico Testamento e vediamo la traduzione greca ci accorgiamo che Dio nell'Antico Testamento è sia padre sia madre c'è una prevalenza del padre ma c'è anche la presenza di questo aspetto femminile di Dio quindi Dio non è prima di tutto incapsulabile in nessun genere sono forme umane di avvicinarsi di avvicinarsi al mistero di Dio e attribuirgli questo o quell'aspetto che noi chiamiamo maschile o femminile naturalmente che Dio venga chiamato padre beh lo troviamo in parecchi testi dell'Antico Testamento io ve ne ho messi una serie alla linea 30 quello che a noi interessa di più è chiederci dove soprattutto nella traduzione greca Dio viene chiamato padre nostro e dove viene chiamato solo padre perché dobbiamo lavorare con due testi linea 18 e linea 20 dove abbiamo questo fenomeno letterario siamo alla linea 34 Davide benedisse il Signore sotto gli occhi di tutta l'assemblea benedire non vuol dire fare il segno di croce in oriente ma vuol dire narrare i benefici ricevuti da Dio narrare questi benefici significava benedire Davide benedisse il Signore sotto gli occhi di tutta l'assemblea Davide disse benedetto sei tu Signore Dio di Israele nostro padre due cose vanno prese in considerazione la prima è che siamo di fronte a una preghiera secondo siamo di fronte a una preghiera di ringraziamento dunque l'esperienza di cui Davide è portatore è più o meno questa noi eravamo nella necessità non avevamo nessun diritto al tuo aiuto tu ce l'hai dato gratis noi abbiamo fatto esperienza di che cosa di un Dio dietro la parola Signore la linea 36 c'è la parola Yahweh di un Dio che è in mezzo a noi Yahweh è colui che si trova tra gli uomini e nella storia dunque abbiamo fatto esperienza di un Dio che è in mezzo a noi di un Dio di Israele cioè uno che ha favorito noi ma non gli altri e ci ha favoriti gratis senza che noi avessimo nessun diritto e perciò Davide attribuisce a Dio un gesto paterno perché ha dato al popolo di Israele qualche cosa di necessario e gratuito vediamo il libro di Tobia siamo sempre nel testo greco qui vi ha fatto vedere la sua grandezza e la preghiera finale del libro date gloria anche qui dare gloria in Oriente ha due significati dare gloria significa dire la verità e secondo significa ringraziare quindi in questa espressione voi avete la convergenza di due significati date gloria a lui davanti a ogni vivente poiché è lui il nostro Yahweh nostro Dio lui il nostro padre Dio per tutti i secoli se voi notate siamo nella stesso clima della preghiera di Davide si ringrazia quindi si narra in questo caso si dice la verità non si esagera in più non si esagera in meno perché si dà gloria Dio è colui che in mezzo agli uomini è nostro equivalente a Dio di Israele ed è nostro padre Pateremon Libro del Siracide nel Siracide noi troviamo il singolare perché è questo sapiente che prega personalmente Signore padre e padrone della mia vita sono due cose diverse di per sé despota sarebbe il capo famiglia padrone della mia vita quindi non è che il Siracide sia schiavo penso che tutti sappiamo che nel mondo greco romano del secondo secolo avanti Cristo quando un baby nasceva se il padrone di casa il despota lo prendeva tra le braccia quello restava in casa e veniva allevato come figlio come nipote oppure come figlio della schiava se invece il padrone di casa non lo prendeva in braccio veniva esposto cioè buttato fuori della porta e poi o i cani o i raccoglitori di schiavi provvedevano quindi Siracide dice io sono vivo perché tu mi hai preso in braccio tu mi hai voluto despote nei miei atteggiamenti hai un atteggiamento di presenza continua signore ma è una presenza continua amorevole padre dietro a queste tre parole c'è questo mondo da scoprire signore padre e padrone della mia vita non abbandonarmi al loro volere a coloro che vogliono fargli del male non lasciarmi cadere a causa loro signore padre e dio della mia vita non darmi l'arroganza degli occhi in questa preghiera ancora una volta padre si trova nella preghiera noi notiamo che l'epiteto di padre è accompagnato da altri titoli non c'è il padre soltanto cominciamo ad avere la singolarità del padre nel libro della sapienza siamo più o meno nel 30 avanti Cristo a chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge invoca un legno più fragile dell'imbarcazione che lo porta cioè l'idolo costruito su un pezzettino di legno e allora anche chi si dispone a navigare o a solcare onde selvagge si trova sulla nave un barcone invoca un legno più fragile dell'imbarcazione che lo porta questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una saggezza artigiana la nave ma la tua providenza padre la pilota perché tu tracciasti un cammino anche nel mare un sentiero sicuro anche fra le onde mostrando che puoi salvare da tutto sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza perché tanto la nave galleggia che tu lo sappia o tu non lo sappia tu monti galleggia anche se tu non sai farla galleggiare qui noi notiamo che c'è l'invocazione padre ma c'è un rebus mentre per il primo libro delle cronache noi abbiamo l'originale ebraico per Tobia è stato trovato l'originale ebraico a Qumran e per il Siracide abbiamo l'originale ebraico il libro della sapienza è stato scritto direttamente in greco quindi non sappiamo cosa sta dietro a questa espressione dunque che Dio sia stato invocato come padre nell'Antico Testamento è più che chiaro è stato invocato o concepito come madre beh ci sono due testi molto significativi che non possiamo tralasciare quando i papi dopo duemila anni si sono accorti che Dio ha anche madre i biblisti hanno fatto un sorrisino dicendo beh potevano leggere la Bibbia tutta intera prima la gente è rimasta positivamente stupita e questa è una cosa bella però per noi non è stata assolutamente una novità Isaia 49 significa che siamo a Babilonia questo è un brano del Deutero Isaia il libro del Deutero Isaia incomincia il capitolo 40 dell'attuale libro di Isaia fino al 55 questi 15 capitoli sono qualche cosa di totalmente diverso dai primi 39 e dagli ultimi 10 se voi leggete il libro di Isaia con un pizzico di attenzione e io dico sempre senza possibilmente devozionalismi voi vi accorgete che nei primi 39 capitoli di Isaia voi trovate gli ebrai a Gerusalemme ricchi purtroppo con enormi disegualianze sociali perché ci sono anche i poveri e sono veramente poveri nel Deutero Isaia invece gli ebrei sono tutti uguali perché sono tutti schiavi a Babilonia e invece nel trito Isaia cioè Isaia 56 66 voi trovate gli ebrei nuovamente a Gerusalemme poveri come gli stecchi che devono ricostruire la città le mure il tempio sono in una situazione dunque di estremo bisogno sono tre libri diversi scritti in tre epoche diverse appiccicate tutti insieme perché l'autore chiamato Deutero Isaia è un lontano discepolo della scuola Isaiana fondata due secoli prima del grande maestro Isaia di Gerusalemme che sarebbe quello che ha profetizzato l'Emanuele la Vergine concepirà e partorrerà un figlio questo è Isaia il grande di Gerusalemme che fonda questa scuola mentre invece il Deutero Isaia è un suo lontano discepolo che purtroppo vive l'esperienza dell'esilio ed è quello che ha intravvisto in lontananza il servo di Ave e compone i quattro carmi del servo Trito Isaia invece non esiste perché è un redattore e cioè uno scribacchino che raccoglie diverse profezie di qualche profeta anonimo da un ordine e compone questo libro bene noi qui siamo nel Deutero se dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere anche se costoro si dimenticassero io invece non ti dimenticherò mai senza entrare in nessunissima polemica Dio è la madre migliore di qualunque madre questo sta dicendo e l'altro brano si trova nel trito Isaia proprio nell'ultimo capitolo come una madre consola un figlio così io vi consolerò a Gerusalemme sarete consolati se noi passiamo in rassegna velocemente l'Antico Testamento ci chiediamo Dio è padre o è madre e questo è quello sono due modi non identificativi ma appellativi un modo sono due modi per capire ciò che Dio è per l'ebreo ma poi c'è un altro elemento femminile molto forte che percorre tutto l'Antico Testamento alla linea 56 trovate una parolaccia ebraica si legge Rahamim sarebbero gli uteri di misericordia Rechem in ebraico è l'utero Rahamim è un plurale e a Dio viene attribuito questo atteggiamento emozionale nei confronti del singolo e del gruppo per cui quando arriviamo alla fine sappiamo che dietro la parola padre si nasconde la parola madre e dietro l'atteggiamento materno di Dio c'è l'atteggiamento paterno di Dio non si può privilegiare l'uno e l'altro perché Dio è questo e quello questo concetto ha fatto sì che qualche popolo tesse un po' di testa per cui in alcune chiese cattoliche americane si dice nel nome del padre madre del figlio figlia e poi si trovano imbragati con lo spirito santo perché devono dire solo spirito santo perché la spirita santa non c'è naturalmente il Vaticano ha avuto parecchie perplessità e sono arrivati fulmini della congregazione e va bene noi ci chiediamo adesso che abbiamo in qualche maniera appurato che è difficile stabilire attraverso l'analisi dell'Antico Testamento quale delle due forme originale se quella di Luca pater o pater e mon quella di Matteo perché come avete visto la linea 36 e la linea 39 l'espressione pater e mon è un'espressione comune nella preghiera di Davide e nella preghiera di Tobì è un'espressione comune dell'Antico Testamento quando ci si rivolge a Dio come padre abbiamo sia il singolare sia il plurale tenendo presente che dietro la parola padre c'è anche la mamma e viceversa che che è un'espressione